Buongiorno, è mercoledì 25 gennaio, eccoci come di consueto ogni mattina al nostro appuntamento con l'edicola Rassegna Stampa, uno sguardo ai giornali per vedere quali sono le principali notizie pubblicate quest'oggi, gli argomenti immaginiamo quali possano essere, immaginate quali possano essere, si parla per esempio della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti approvano l'invio dei tank e Berlino manderà i Leopard in Ucraina, dopo settimane di trattative polemiche arriva la svolta sui tank per l'Ucraina, gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare gli Abrams M1, punta di diamante dell'equipaggiamento militare a stelle e strisce e la Germania dal canto suo a fornire i Leopard finora negati. Sono i carri armati a lungo invocati da Chieve per cambiare le sorti di un conflitto giunto ormai all'undicesimo mese e oggetto di uno scontro senza precedenti che ha rischiato di minare la coesione della stessa alleanza. Giustizia a richiamo del Colle, oggi il voto per il vicepresidente al posto di Ermini, scattato lo sciopero i benzinai si dividono, poi ancora Mattarella al CSM, episodi gravi, ma l'indipendenza è pilastro della democrazia. E a proposito dello sciopero dei benzinai, va detto che il tentativo in extremis del ministro Urso di scongiurare lo sciopero di 48 ore dei benzinai spacca le rappresentanze sindacali, perché Fejica e Anisa, Confcommercio, confermano la chiusura di due giorni, mentre Faibe Confesercenti riduce la protesta a 24 ore. Lucchetti dunque a tutte le pompe di carburanti che fanno capo alle tre organizzazioni da ieri sera alle 19 sulla rete stradale e dalle 22 su quella autostradale, poi i percorsi si divideranno. Andiamo a vedere il Corriere Fiorentino adesso. Le prime idee per un nuovo piano casa, affitti turistici, chi difende e chi ammette. L'idea di Nardella di un nuovo piano casa partecipato per Firenze raccoglie consensi e anche qualche prima idea. Un caso a Palazzo Vecchio, PD Italia Viva lo strappo sulle cartelle, la Renziana contro il no allo stralcio e sei consiglieri dem contro Milani consigliano inviato. Solo questioni organizzative, si fa sapere da Palazzo Vecchio, le opposizioni attaccano, la maggioranza non ha i numeri. E poi ancora questa fotografia a centropagina, stupro di gruppo, la versione degli accusati fu una serata a Goliardica, Lucarelli in tribunale con il figlio Mattia, gli arresti sono stati confermati. Sappiamo che alcuni giocatori del Livorno sono stati coinvolti in questo caso di cronaca. Rimaniamo in Toscana. L'ipotesi del pedaggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno non piace alle categorie dell'autotrasporto e sulla questione interviene il presidente della regione Eugenio Gianni. Le categorie dei trasporti sono state chiare. Il pedaggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, introdotto da 2024 da Toscana Strade, è un balsello ingiustificato. Previste manifestazioni di protesta lungo quel tratto di strada. Il presidente della regione interviene e illustra il suo punto di vista. Gli interessi pubblici richiedono provvedimenti sui quali noi abbiamo la necessità di procedere e andare avanti per i cittadini. È un provvedimento di cui si parla, ben che venga fra più di un anno, quindi non vedo il motivo di fare proteste. Fita CNA ha inviato una lettera ai capi gruppi in consiglio regionale per illustrare i motivi per cui questa decisione, afferma l'associazione, sarebbe profondamente sbagliata, perché colpisce una categoria professionale necessaria e vitale. Un incendio è divampato ieri sera in via Marco Perennio, ad Arezzo, nella parte vicina alla tangenziale Cittadina, dove un rimorchio di un mezzo pesante è andato a fuoco. Per questo motivo la circolazione ha subito forti rallentamenti. Ieri sera la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. Stamani sono proseguite le operazioni di bonifica della sede stradale e si viaggia a senso alternato per consentire il pieno intervento dei vigili del fuoco. Questo, come detto, invia Marco Perennio ad Arezzo. Vediamo la cronaca di Arezzo. Famiglie ancora senza luce e al gelo. Va detto che la situazione è sensibilmente migliorata rispetto all'altro ieri, anche se permangono ancora alcune zone dove i servizi sono carenti e a questo proposito sono stati attivati anche dei gruppi elettrogeni per garantire la regolare erogazione della energia elettrica. Rabbia e benzina in 23 restano aperti, è partito lo sciopero, ma non tutti aderiscono a questa manifestazione. Poi ancora sanità, rottura tra comuni e asl sui servizi sociali, tempesta di stretto, continua ancora la polemica e quindi la politica. Ghinelli convoca Polcri al vertice con il centrodestra. Vediamo all'interno quali sono le altre notizie che vengono riportate. Corsa al pieno e code per lo sciopero, una ventina, rompono il fronte, l'allarme quindi per la benzina. Travolto sull'E78 e gravissimo, verifiche sul servizio Spargisale. Questo è accaduto sulla superstrada E78, quindi sulla Due Mari. Ieri mattina è stata una giornata particolarmente impegnativa e difficile anche per il traffico in alcune parti di quella zona. L'E45 torna alla normalità tra le polemiche. Dopo la chiusura per neve si scatenano le polemiche sui social. Chiuso per neve, quando la neve in verità non c'è. Ancora altre notizie. Buffera spesa è la più alta in Toscana. Balzo di 528 Euro, punte al più 52%. Sono i dati diffusi dalla Coldiretti. Ci sono delle differenze anche piuttosto notevoli con altre province. E poi ancora, sempre per quanto riguarda il rapporto ASL-Comuni, sociale e salta l'accordo ASL-Comuni, braccio di ferro su risorse e personale. Centrodestra, Ghinelli si siede al volante e convoca la coalizione al vertice con Paul Cri, scenari e strategie. Il sindaco ha fissato per il 2 febbraio la riunione decisiva tra partiti e liste civiche con il presidente della provincia. E vengono spiegate anche quali sono le posizioni in campo. Il Vescovo raddoppia la marcia con i giovani e dopo l'ingresso rilancia l'appuntamento per la Madonna del Conforto. Prima dell'estate un nuovo evento in piazza, gli incontri online. Quindi c'è un utilizzo anche dei social per divulgare appunto il messaggio del Vescovo. Qualche notizia adesso dai territori, per esempio dal Val D'Arno. ABB va al mondiale di sci con gli sparaneve. La grande azienda ha predisposto un impianto di alimentazione dei cannoni ideato per monitorare e ottimizzare l'uso della energia. E ancora treni e disagi, polemica sulla manutenzione. Ci sono prese di posizione in ambito regionale. Dalla Valdichiana, da Cortona, Mercato Vecchio e Spirito Santo c'è il piano perché saranno sistemate e ampliate le due aree di parcheggio del centro. Presto nascerà quello interrato di piazza Mazzini e in questo articolo vengono anche individuati i tempi. Villa Pavolini Americana, qui il poeta trovò il rifugio, siamo sempre nel Cortonese. La storica dimora cortonese è passata nelle mani di una famiglia statunitense. Terza notte di blackout per decine di famiglie, questo soprattutto nella zona di Badia Tedalda, una delle più colpite da questa ondata di maltempo. Da Sansepolcro, nuova sede della Polizia Blitz al Ministero per la costruzione della nuova sede della quale Sansepolcro ha bisogno. E poi ci sono anche notizie dall'Alto Tevere, in particolare qui da Città di Castello. Veniamo al prossimo servizio filmato. Le scelte verso la fine della vita è stato il tema affrontato per la festa della Toscana celebrata al C3 in Casentino, tema molto difficile ma che ha coinvolto tanto pubblico. Quando si parla della festa della Toscana sempre qualcosa di molto particolare, ma questa volta riguarda veramente l'uomo, la vita, ma quale vita? Il riferimento era all'articolo 21 della Costituzione, che tutti hanno il diritto e il dovere di decidere e di scegliere. Allora su questo tema della scelta si poteva fare mille scelte da quelle umane, da quelle religiose, da quelle politiche, però ci sembrava che quella del fine vita fosse un tema importante, perché investe un ambito filosofico, un ambito storico, un ambito legislativo, ma anche un ambito religioso umano. Allora questo era il taglio che volevamo dare e quindi abbiamo impostato questo tema cercando di parlare di accompagnamento, di rispetto, di comunicazione. Affrontiamo un tema che ci riguarda tutti, quindi abbiamo aderito proprio anche per la grande platea alla quale questo messaggio di così tanta importanza poteva arrivare. Io credo che chiunque sia passato da situazioni in cui il trapasso al Regno di Scegli o dove uno vuole, dove è stato difficile, certamente questo allarga il pensiero, su orizzonti che uno prima esclude fino a che non c'è proprio nel mezzo. Sottolineo la scelta felice del titolo, le scelte verso la fine della vita, dovremmo favorire la diffusione delle cure palliative che sono tutt'altro che cure che non servono a nulla, come a volte il termine palliativo potrebbe far sembrare, ma sono cure che leniscono i sintomi delle persone appunto verso la fine della vita, evitando ricoveri in pronto soccorso, in ospedale che spesso non sono efficaci. Vediamo adesso il Corriere di Arezzo, caffè dei costanti in vendita, banca intesa cede il locale storico a 1.350.000 euro, Patrizio Bertelli può prendere parte all'asta e a marzo riapre la buca di San Francesco. Il convento rivive dopo due secoli, siamo ad Anghiari, questa fotografia lo testimonia e poi quest'altra immagine qui di spalla, emergenza lupo, nasce il comitato, cittadini si mobilitano, basta danni, il comitato che sorge nascerà nella zona di Rigutino che sembra essere una di quelle più interessate in questi ultimi tempi dalla presenza dei lupi. Poi ancora altre notizie all'interno, vediamo, per il caffè dei costanti asta da 1.350.000 euro, Bertelli può partecipare, banca intesa ufficializza la vendita dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, anticipazioni che fra l'altro lo stesso Corriere ha pubblicato. Arezzo in bianco e nero scoperti i filmati inediti, così la città anni 30, perché ci sono alcune immagini in verità piuttosto suggestive che documentano quale fosse un po' la vita ad Arezzo in quel periodo. Madonna del conforto, le novità, Miglia Vacca curioso della festa, i primi mesi in città del nuovo vescovo, Aretini, gente schietta e sorridente, questo è il giudizio che ha espresso Monsignor Miglia Vacca. Emergenza lupo, nasce il comitato per il contenimento, come detto nella zona di Rigutino, e poi ancora, primo piano in Toscana, una notizia che viene da Siena, i medici raccontano il parto nella casa di San Quirico d'Orcia, isolata dalla neve, così il piccolo è nato nella bufera, è stata un'emozione unica da vivere, un argomento che ha avuto anche una rilevanza di carattere nazionale. Ci sono notizie dall'Italia e dal mondo, fra l'altro Lollobrigi da rischio sociale e Salvini arricchisce multinazionali, ci sono anche delle valutazioni su questo argomento, farina di grill e larve, nuovo business che viene contrastato anche e criticato su molti versanti. Poi qualche notizia dai territori, illuminazione a LED via ai lavori, questo a San Giovanni, la scuola di prodotti tipici a Cortona, iniziativa di Confcommercio e quindi ancora, sempre dai comprensori, al Carmine, ordine religioso dopo due secoli, quindi siamo ad Anghiari. Sasso dal cavalcavia colpisce auto e è accaduto in Alto Tevere, a città di Castello. La pietra ha centrato il tettuccio del veicolo in transito nel sottopasso di via Moncenisio e la polizia sta indagando. Picchiò la mamma fino a provocarne il decesso. Domani torna in aula una vicenda che risale al 2018, oltre al figlio accusata anche la convivente. Interessante scoperta sulle rive del lago Trasimeno, l'abbassamento delle acque ha portato alla luce quella che con ogni probabilità è una testimonianza di epoca etrusco-romana. Strada sommersa torna alla luce, accade sulle sponde del lago Trasimeno. L'immagine è stata pubblicata sul sito Perugia Today. L'abbassamento del livello delle acque del lago ha riportato in superficie quella che gli esperti affermano essere l'antica via di collegamento fra Chiusi e Perugia. La zona interessata è quella vicino a Sant'Arcangelo di Magione. Il selciato, come osserviamo, presenta alcune pietre disposte regolarmente e altre invece scomposte. L'ipotesi che si tratti di un'antica strada di epoca etrusco-romana è stata valorata dallo storico e ricercatore Gianfranco Cialini. Sul ritrovamento è stata informata la soprintendenza archeologica dell'Umbria, la quale non si è ancora pronunciata. Ci sono alcuni indizi che confermano l'ipotesi di essere in presenza di un'antica strada. Cialini segnala che l'innalzamento delle acque nelle ultime settimane impedisce di vedere con chiarezza il tratto individuato, ma che alcuni studiosi con i quali ha condiviso questa ipotesi hanno confermato quanto da lui supposto. Va aggiunto che tra le stesse pietre sono stati recuperati anche ossa di animali, ferri di cavallo e pesi in coccio di reti da pesca. Vediamo il titolo di Repubblica con il quale terminiamo questa rassegna stampa. Escalation, un Leopard 2 di fabbricazione tedesca e il suo cannone può sparare con una gittata massima di 5 km, perché abbiamo detto ci sono state anche dopo settimane di trattative e polemiche, arriva un po' la svolta anche sotto questo profilo del conflitto in Ucraina. Intesa Washington Berlino, i Leopard 2 tedeschi e gli Abram americani saranno presto inviati in Ucraina, corruzione nel governo a Kiev, purga di Zelensky, via libera nuove armi italiani, oggi Crosetto al Copasir, il capo dell'esercito russo, neutralizzeremo le minacce della Nato e poi l'articolo viene evidentemente commentato anche sotto varie sfumature e vari risvolti da giornalisti, esperti politologi e anche esperti di strategie internazionali. Possiamo concludere qui la rassegna stampa di questa mattina, grazie quindi a tutti della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi. Grazie a tutti.